Grazie a tutti. In entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla A12 per lavori fino al 21 marzo è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione sud. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti.